Amici, D'Anni Cocco! Amici dell'Hotel Califo, buonasera e benvenuti. Amici, questo più o meno è quello che è capitato nel 1978 all'Hotel Califo, esattamente all'Hotel Califo, ci fu un imprevisto nella programmazione e mi disse ad essere sul palco per coprire il buco. Io mi rifiutai perché non avevo preparato assolutamente niente. Alcuni di voi, alcuni amici in sala, questo schiaccio l'hanno già visto, però in forma ridotta. Oggi, se mi ricorderò, lo proporrò in maniera quasi integrale. Comunque, sta di fatto che qualcuno mi diede uno spintore e io mi ritrovai sul palco davanti al pubblico, il pubblico guardava me e io guardavo il pubblico. Più il pubblico guardava me e più io guardavo il pubblico. Passarono dei secondi interminabili di silenzio, imbarazzantissimo silenzio. Allora, attinsi dal copione di un grandissimo cabaretista, Felice Andreazzi, diventato molto noto per il suo humor inglese, un centro traumatologico ospedaliero, l'Alta Montagna, per i sciattori, i quali avevano subito degli infortuni in pista. Questi sciattori avevano una prerogativa. Tutti quanti avevano il braccio ingessato in questa posizione. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Ed ho sentito nel vivere trope cose che credevo morte ormai. Io tanto amato, dal mare del silenzio, mi torna come un ombre a lei. Senza te, io senza te, io senza te, sola continuerò e dormirò. Mi segnerò, mi segnerò, camminerò, lavorerò. Qualche cosa farò, qualche cosa farò, sì, qualche cosa farò. Qualche cosa di sicuro, io farò, piangerò. Non avrei dovuto chiedere il prestito in banca per il viaggio ai Caraibi, di mia moglie e del mio amico. E' più di un mese che sono partiti e non si sono ancora fatti vivi. Telefono amico, te l'avete sbagliato tutto. Eh, amico mio, hai sbagliato anche stavolta. Tu non hai chiamato al telefono amico. Qui è la Syndrome International. Se adesso te ne vai, non ci sarà più il posto dentro me. Ma il male che mi fai, non puoi portarlo via. Diventerò un oscuro, un quale mi difenderò da te. E adesso sbagliato forte quella porta via da me. Che via Teus Deo, i bambini cantano e danzano. Le memore danzato, e nascolo, lo veni mie, che le va di un parago, te lo spero, te lo spero, te lo spero. Con l'entusiasmo di un bambino, io credo che lassù qualcuno avesse scritto già, l'amore mio per te, e tutto quello che sarà. Ma sono qui, se tu mi vuoi, amore dei ventanti miei. E oggi è un po' delle domande assurde, improponibili. Chiaramente il conduttore lo prendeva in giro. La 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 Non c'è ancora il tallone che ti è avuto nel cartino? Non ti capisco, ho detto, tuora, io andavo toccato col tallone e il tallone è caduto nel cartino, me lo dai il tallone che è caduto nel cartino, tuora? Io andavo toccato col tallone e il tallone è caduto nel cartino, tuora? Non ti capisco, cazzo! Buongiorno, buongiorno! E' il tallone è caduto nel cartino, tuora, me lo dai il tallone che è caduto nel cartino? No, io non ti capisco! Tuora, il tallone è caduto nel cartino, me lo dai il tallone che è caduto nel cartino, tuora? Cazzo! 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 Il tallone che è caduto nel cartino, te l'ha dettito la tuora, ti ammò! Cazzo! 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 Ma ricomincerai Non permette l'urire con la casa Non è poi tanto quanto si crede Ma perché molto a che venire Dopo domenica e non credere Ma non è lungo nei giorni di te Guardare bene e sempre con te Lascia adattare la gioia che hai Un giorno forse l'alturità Dove chi lo sa potremo offrirvi Uno spettacolino ancora più completo Con tanti altri personaggi Che hanno dato vita a questa meravigliosa Situazione che si chiama Sintori International Grazie di cuore a tutti